Io dico sempre, quando mi dicono, io dico prego il mio Dio di alleviarmi da questa attrazione verso il pene. Perché è molto forte questa attrazione. No, perché è una piaga, perché poi questi uomini non vanno bene. No, perché diciamo che farai a meno degli uomini, molto volentieri se non fosse per quella cosa. Cioè, sessualmente sono attratta. Che ne è molto attratta, sessualmente. Cioè, le piacerebbe più essere attratta, dice, dalle donne? Sì, o proprio non attratta a niente. Assessuata? Assessuata, anche mi andrebbe bene. Ho dato. Eh, e invece no. E invece no, sono proprio molto attratta. Molto attratta.